Buongiorno a tutti, volevo presentarvi questo filo distribuito dall'azienda Maver, il Dual Bender. È un filo giapponese nato dall'accoppiamento di due fili. Questo rende come caratteristica principale l'estrema resistenza ed è un filo ottimo contro l'abrasione. Viene distribuito in bobine sia da 150 sia da 600 metri nei vari diametri, dal 14 al 35. Il Dual Band lo consiglio per la pesca all'inglese o per delle pesche molto gravose. Ottimo anche per la pesca feeder, anche perché la sua caratteristica principale è la fondabilità.